In occasione dell'emergenza coronavirus, molte attività sono state costrette a chiudere in maniera forzata. In molti ci state chiamando per avere informazioni su come comportarvi con il registratore telematico. In realtà nulla cambia. Appena ritornerete ad essere operativi nelle vostre attività, il registratore telematico vi comunicherà un periodo di inattività. Basterà confermarlo come d'altronde avete fatto fino a pochi giorni fa e il registratore telematico invierà tutte le chiusure, ovviamente valorizzate a zero, dei giorni chiusi all'agenzia delle entrate. Ma attenzione, quando tutto sarà passato, se deciderete di star chiusi oltre 12 giorni con la vostra attività, dovete comunicare preventivamente all'agenzia delle entrate il periodo di inattività. Lo potrete fare utilizzando o lo stesso registratore telematico o addirittura collegandovi al portale dell'agenzia delle entrate.